Buongiorno a tutti e bentornati su Better World Jenny. Oggi vi voglio mostrare come per anotare un ristorante senza pagare il prezzo pieno. Scaricate semplicemente l'applicazione The Fork. Io ve la consiglio, adesso la apriamo, semplicemente perché è semplice, intuitiva e ha degli sconti abbastanza importanti. Adesso siamo nel periodo di San Valentino e quindi una volta aperta l'applicazione potete vedere la scontistica e anche il menu direttamente dall'applicazione. È bellissimo perché voi aprite un'applicazione senza dover stare a cercare giorni sulla marea di offerte che ci sono su internet o chiedere in giro chi fa, che cosa fa, qual è il menu. Voi avete tutta una carrellata di opzioni che potete selezionare direttamente dall'applicazione. Ecco perché l'applicazione è furba e l'ho messa nella playlist applicazioni furbe. Andatevi a vedere le altre se siete interessati. Però oltre che essere furba, comoda, pratica perché si può prenotare direttamente da qua, perché vedete io posso selezionare oggi, domani, dopodomani, per due, per tre, per quattro, diciamo per tre. E vi fa vedere, addirittura qua c'è un 50% di sconto. Dicevo, oltre che essere pratica, si può prenotare anche all'estero, cosa non da poco, ci sono delle scontistiche molto importanti. Prendiamo questo per esempio il ristorante, arriva addirittura al 50%. La cosa bella è che voi in alto potete vedere le fotografie, la mappa, le recensioni su TripAdvisor e su The Fork. Sotto potete vedere gli orari disponibili e lo sconto. In questo caso è addirittura scontato a metà prezzo, cioè avete il 50% di sconto. E poi, se scendete un pochino, potete farvi un'idea di che cosa offre il ristorante e anche dei prezzi a menù. Perché voi vedete, ok, va bene, 50%, ma quanto mi costerà un, non lo so, un hamburger? Vedete, giù sotto dite, ah ok, il burger è 12 euro, quindi scontato viene 6. Secondo me è ottimo, poi vi fate un'idea con le recensioni e tutto quanto. Una cosa anche interessante e molto bella è la possibilità di accumulare IUMS. Gli IUMS sono punti, con questi punti potete cenare o pranzare in alcuni ristoranti e pagare con questi IUMS, che non sono altro che punti fedeltà. Se volete iscrivervi con il mio codice, ve lo do subito, il mio codice, è questo qui, che adesso io metterò anche nel link descrizione. Riceverete 1000 IUMS e regalerete anche a me 500 IUMS e vi ringrazierò virtualmente, perché sì, non vi inviterò a cena, ma vi ringrazierò virtualmente. E nulla, poi, che cos'altro dire? Possiamo guardare la mappa. Io ho utilizzato già questa applicazione in varie occasioni, devo dire che mi sono trovata benissimo. La cosa bella è che a differenza di siti di scontistica come Groupon, Groupaglia, che io uso, che però a volte hanno dei vincoli del tipo valido solo dal lunedì al giovedì, un solo coupon a persona, oppure dovete acquistare per forza solamente questo. No, questo non ha questi vincoli, voi semplicemente andiamo a prendere Fratelli Scarpetta col 40%, selezionate quello che volete, prenotate un tavolo, vedete quanto sconto avete e in quali orari disponibili e dopodiché basta. Adesso io non prenoto perché non vorrei far perdere tempo al ristorante, però insomma è semplicissimo. Una volta arrivate là, dite io sono, non lo so, Pinco Pallino e ho prenotato per quest'ora con The Fork. Loro vi fanno sedere, potete selezionare qualsiasi cosa dal menu, voi riceverete uno scontrino con lo sconto del prezzo base che avrebbe quello che avete preso da menu. Non ci sono vincoli, non vi trattano male, vi trattano come tutti gli altri clienti. Io detto questo vi auguro un buon San Valentino, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è stato utile iscrivetevi al canale perché farò altri video e vi mostrerò altri modi per risparmiare. Vi saluto, al prossimo video e niente, buon San Valentino l'ho già detto, ciao!